Come risolvere così? Questo errore qua riguardo al blocco dell'applicazione per la tua protezione, sempre su utenti, quindi controllo dell'utente account e cose così, si può semplicemente risolvere attraverso gpedit. Vai a scrivere qua sopra gpedit.msc, entriamo così nell'editor criteri locali, ci clicchiamo sopra e ti porterà direttamente qua sopra su editor criteri di gruppo locali. Vai direttamente su impostazioni di windows, poi vai su impostazioni di sicurezza, poi vai su criteri locali, opzioni di sicurezza. Dentro la cartella di opzioni di sicurezza scendi fino a giù fino a trovare così il controllo account utente, esegui tutti gli amministratori, eccolo qua, tutti gli amministratori in modalità approvazione amministratore, ci clicchiamo sopra e poi direttamente cliccare su disattivato. Vai applica e è disattivato così questo problema riguardo al blocco dell'applicazione per la tua protezione. Lo puoi disattivare solamente se stai, che ne so, aprendo un'applicazione o facendo altro, quindi io lo tengo attivo e faccio applica. Una volta fatto devi solamente riavviare il sistema. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!